Arriverà a dibattimento la complessa indagine iniziata nel febbraio del 2012 e coordinata dalla Procura di Patti che riguarda le utilizzazioni abusive ed abusivismo edilizio a Capodorlando, indagine che nel luglio dei tre anni fa aveva portato al sequestro di nove villette nelle zone di Vina e Trassari. Il GUP, Ines Rigoli, ha accolto le richieste del Pubblico Ministero, Maria Emilia, ed ha rinviato a giudizio all'utinenza dell'8 gennaio prossimo proprietari di abitazioni, alcuni dei quali subentrati in un secondo tempo, e progettisti. Si tratta di Maria Grazia Befumo, Luciano Spurio, Giovanni Giacobbo, Rosalia Ferracù, Federica Ciraulo, Natalino Cavallaro, Salvatore Ciraulo, Maria Pia Ciraulo, Salvatore Manera, Cinzia Fazio, Elena Galipò, Antonino Minciullo, Maria Rosa Calanna, Franco Mantegna, Giuseppe Maniaci, Rosaria Truio, Claudio Timpanaro Pirrina e Antonino Leggio. Il provvedimento di invia a giudizio è arrivato dopo una camera di consiglio protrattasi per circa cinque ore ed al termine dei corposi interventi delegali degli indagati, i quali hanno puntato soprattutto sulla mancanza di impatto ambientale e trasformazione del territorio causata dai fabbricati in una zona già fortemente urbanizzata. In sostanza comunque si tratta di fabbricati costruiti in vari terreni agricoli appartenenti a più proprietari con un piccolo indice di edificabilità nei quali era prevista originariamente la creazione di grossi caseggiati unici. A quanto è emerso però i terreni sarebbero stati frazionati in quattro o cinque parti e dall'interno sono nate ville quasi tutte dotate di piscine, la cui incubatura complessiva è quella prevista originariamente, insomma frazionamenti giudicati dagli investigatori irregolari. Ci sono poi alcuni casi in cui viene contestata la realizzazione di cantinati che avrebbero dovuto risultare totalmente interrati e che invece risulterebbero parzialmente a vista. Nella vicenda sono coinvolti anche progettisti, direttori dei lavori ed alcuni dirigenti e funzionari del Comune di Capodorlando i quali nel rilasciare le autorizzazioni e le concessioni edilizie avrebbero messo di esercitare e disporre i dovuti controlli e sovralluoghi rivolti alla verifica dei progetti presentati, nonché per aver sottoscritto i frazionamenti effettuati nei mesi successivi il rilascio delle autorizzazioni. Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Francesco Cacciola, Decimolo Presti, Giuseppe Benedetto, Antonio Trimboli, Natale Bonfiglio, Rita Vito, Mimmo Magistro, Walter Mangon, Antonio Catalioto e Antonella Molino.